Ciao ragazzi, questa settimana ci spostiamo in Furgon Beach perché abbiamo deciso di stare vicini vicini c'è tutta la famiglia del Samsaro quasi al completo c'è nell'ordine Luigi Abaterusso in ordine di bellezza eccolo qua Luigi Abaterusso sto guidando avvicina la bocca sto guidando poi c'è Danilo Secli eccolo qua che sta ascoltando l'ultimo disco di Justin Bieber intanto in cuffia poi c'è il boss eccolo qua vabbè in ordine di capelli poi c'è anche Daniele Pignatelli eccolo qua il nostro videomaker e poi la formazione Samsara House dietro eccolo nella seconda pista dietro come li vedete eccolo qua Andrea Maggino e Marco Santoro noi ci spostiamo da Gallipoli verso Perugia e questo è il nostro viaggio perché questa sera saremo al Vanilla e saremo anche all'NZAP che sono a due facce della stessa medaglia a destra è in questo appuntamento il Samsara Beach è stato protagonista di una bellissima serata a Perugia che vediamo tra pochissimo siamo stati al Vanilla con il progetto Samsara Beach On Tour in realtà il Vanilla è una discoteca storica di Perugia che si chiamava prima come si chiamava 54 ecco e poi c'era anche il progetto Samsara House nella dance floor hands up praticamente lì nella stessa location c'era anche Debla che abbiamo spesso incontrato nei beach party al Samsara d'estate Vanilla hands up spettacolo sold out come si chiamava Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti